Nel 2018 ho fatto qualcosa che non vi è piaciuto. Per questo motivo nel 2019 farò qualcosa che vi piacerà di sicuro. Questo perché li avete scelti voi questi video. Dov'è incursione? Dov'è sto tizio? Lama, trovatemelo. È qua, lo sento scatarrare. È una pecora. Dov'è? Ma lo sentite? Non venire a dire che è dentro l'albero perché non ci credo eh. Oddio! Era dentro l'albero! Giulio Esposito c'è posta per l'ana? Hai mai avuto una ragazza? No, mi basta Pino. Non mi serve nient'altro. Allora i pomodori, i pomodori me li metti, me li metti già nel piatto. No, 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 dove va? No! Credo che mi sia morto il tizio. Questa cosa, questa cosa deve scavarsi. Ce l'avevo fatta! albano! C'è albano! Ci canti una canzone, signor albano! Quanta gente c'è qua? Adesso posso andare di là, ok? Oh! No, ma forse, forse è meglio. Bella raga! Oh! No, forse è nel momento sbagliato. Amici, tutto be*****o. Una leva di qualcosa. Mi stanno cercando di dire qualcosa i pulcini. Ditemi, piccoli! Cosa volete? Ah, anche questa è una leva. Per un motore. Ok. No! Maledizione! Maledizione! È impossibile. Come hai detto, vuoi provarci lo stesso? Eh, allora proviamoci! E vinciamo! Questo è un ragno, raga! Eh! 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 Vado? Vado? Non vado? Cosa faccio? Si muove! Fuck off! Madonna santissima! Sono ancora vi... Io qua, io qua, ma tu non gioca più? Io chiedo a te di giocare quanto io non c'è altra battaglia e tu non prende niente? No, 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 no. Ehi. Allora, tanto porto il rispetto. Allora, tu ti fai spiegare. 20 cristalli sparsi in tutto il livello. Non è complicata come cosa, non è molto difficile. Difatti, come potete benissimo vedere, mancano 4 secondi e abbiamo perso. Vabbè però Non mi potete fare Sti figuri di merda Molto molto pene Ciocco crashato Davvero? Io ho fatto tutta cucina Tutta cucina pene E ciocco crasha Io pasta mi licenzia Che cosa sono quei robbi? Che cosa dovrebbero rappresentare? Guarda che bello Larva mugheco Ah sono delle larve Volete il prosciutto? Ballate un po' per me Yeah Calcolando che il primo giro Non sono riuscito neanche a farlo Perché non ero neanche Guarda il cupo che gira Guarda il cupo che gira Guarda che deficiente Dove vado? Oh Che è che mi sono strafatto? Dai bello Ah c'è il tumore lì Ciao ciao Col cacchio che vengo a prendere Dai che siamo alla fine Un po' per temporeggiare abbiamo fatto qualche livellino Nudo è la storia principale perché sennò poi il comandante sarà Ma che cacchio Io ho giocava con un gatto Non ce l'abbiamo un gatto No che non te lo prenda un gatto Piccolo Per giocare Ma Ma viene a giocare Dai va Ma viene a giocare Ma guardate Fuck you Fuck you Via Via Hehehe Oh Oh No Oh 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 no 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 Calmo Calmo Stai calmo Stai calmo Stai calmo Si esploditi in meno Si esploditi in meno Si esploditi in meno io raga odio, odio tutto, odio sei mai stato in un vulcano attivo ma spento? nel senso che dorme ma è vivo ma che cacchio? no io sì e voi una folta ma come sì? sì bellissimo è vulcano morto, caput ma che cacchio stai dicendo? di là ah vabbè c'è una po' immaginavo eeeh e niente c'è il passaggio segreto qua dietro? sicuro? jonathan? puoi far qualcosa? o comunque siamo in un bordello adesso eh cioè qua questa è una bella pista cioè è una bella gara buona che siamo in secret fire woohoo fuck off ecco ma dove cacchio si è finito? cos'è? all'area 51 potrei provare un'altra cosa ovvero stare sopra e vedere dove ci porta il destino fuck no 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 ma ti arriva un pomodoro hai buttato il robo si è buttata da sola corri 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 ma il che non si butta? ma ti sta bene cagnaccio becca fuck è foluto lo hai difentata eeeh oly falchiria cosa voleva ritirare oly? che essere oly? sacra nome ti falchiria? no sacra ah ok eeeh suddenly mi sento strana io morto morto per aver letto un libro sempre detto che libri fanno male eh avete capito cioè capite perché muoio? perché cado perché sono cieco? perché sono stupido fammi mettere il coso ok uno due tre quattro ehi babbo natale sei pronto? ovvio sono nato con il ritmo nelle pene allora musica chiedi a me io le so ti risponderò e dovunque devi andare ti accompagnerò assistenti come me qualcosa mi dice non toccare quei neon qualcosa mi diceva giusto becca qua becca qua becca qua becca qua becca qua becca qua sì sì no a forza funghi tagliati e sono arrivati funghi porcini e sono funghi lui potrebbe distruggere qualsiasi nemico nero ecco no a proposito non puoi dirlo cosa ti fare dire io non puoi dire nero ti farei colore ti ferso allora dare pene ti colore ti ferso no ok allora noi tu farei sconfiggere nemico ti colore ti ferso ta bianco posso no neanche no bianco non nemico ti colore ti ferso cattivo ok cosa cosa sto vedendo arat arat oh my god dai oh ma erano incastrati tutto a posto amici tutto bene per fortuna avevano l'elmo di protezione mi raccomando ragazzi sempre l'elmo di protezione perché in caso di caduta da 50 metri almeno vi salva la vita sì sì fratellone il tuo vecchio testo è andato ora? ah sì adesso sono una nuova persona ma quelli per terra cosa sono? cosa? no qualcosa deve esplodere qualcosa deve succedere raga io mi ritiro basta no basta io mi ritiro ah cari vieni qui non troppo vicino però cioè abbracciamoci da lontano tipo wireless abbracci ma che schifo sto abbracciando ma che è una pala da bullying qualcosa mi dice che è incatenata e che se ci avviciniamo forse troppo ci ammazza vero? no? no? oh? non fai niente? oh? 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 no sono negato allora ci sono c'è il reghiaccio di adventure time che sta rinchiudendo gli ice climbers si me la ricordavo diversa la tizia degli ice climbers però dovete proteggere un pezzetto di terra non ci mettete molto dai raga raga sono atterrati in due ma ne va stato tutto a testi 3 esatto un albero con la soda oh the juice is sliding down my big bird no in questo momento lui sarà in casa a godere come come pino in questa ma che cacchio ti ma brutto male te ti fii contro di me alexa ferma impazzita vingardium lefiosa perché non taglia è già tagliato quel pezio no ciao ragazzi sono sempre io quello di prima vi ricordate che che si era si è raffreddato no non c'è più la voce e ho raffreddore e mal di gola però pino sta bene l'importante è quello quindi le sarà qua con me perché volevo volevamo augurarvi buon anno e buon 2020 quest'anno si fa doppia cifra 20 in realtà vanno tutti bene i numeri finché non sono 61 e vabbè spero che questo video montaggio della seconda parte del 2019 vi sia piaciuto mi raccomando divertitevi vabbè si qua dirò le stesse cose che dice chiunque divertitevi non non uccidete nessuno non rapite gente vabbè dai quelle cose lì e vabbè niente ci vediamo tra un anno ciao 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 ciao